In questa partita importante, come voi sapete, l'entusiasmo è tanto. Io rientro in Serie A dal 2008, la voglia di far bene è tantissima. Ho più esperienza, ho voglia, sono sicuro di poter dare la mia esperienza a una squadra giovane come questa del Palermo. Incontriamo una delle squadre che lotta per vincere il campionato, una squadra fortissima. È ovvio che dobbiamo fare una grande partita sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto dell'intensità delle giocate, delle chiusure. È una squadra che ha degli uomini di qualità, ma gli uomini di qualità ce l'ha anche il Palermo, credo, solo da mettere in condizione i giocatori del Palermo per poter far bene. Sono convinto che le partite vanno giocate. Ho molto rispetto per il Napoli, l'ho allenato. La voglia di far bene la nostra è tanta. Io credo molto nella voglia, nella voglia di ogni giocatore. È ovvio che c'è un cambio, il cambio può portare altre forze, è normale che ci siano. Sono convinto che la prima cosa che devono pensare è quella di fare una grande partita sotto l'aspetto caratteriale domani sera. Sono convinto che il Palermo ha degli uomini di qualità che si può, in questo momento di difficoltà si può superare attraverso il lavoro, come lei sa, sono parole scontate, ma è la verità. D'altronde ogni allenatore che è venuto qui ha portato qualcosa di buono di suo, però sono convinto che il lavoro più principale è il lavorare sulla testa di ogni giocatore. La voglia mia era tanta di rientrare. Avevo avuto tantissime richieste in Serie B, ma ho aspettato, ho aspettato. Il mio entusiasmo è tanto. Lui l'ha capito. Io spero di non deludere lui e di dare qualcosa al pubblico di Palermo, fa capire che Novellino c'è. Conosco Zampanì dal 98. Il presidente è un presidente che si interessa della squadra, ma non ho chiesto niente perché lui sa che Walter fa l'allenatore e cerca in tutte le maniere di poter vincere le partite o di pareggiarle. Perché lei, come sa, gli allenatori vogliono sempre vincere e ottenere il massimo dei risultati. Poi il presidente c'è un rapporto di stima, anche di colloquio. Questo l'ho avuto anche nei due anni che siamo stati insieme, però mi ha sempre fatto lavorare. La salvezza la giochiamo noi, non dobbiamo guardare gli altri, dobbiamo cercare di migliorare alcune situazioni, di essere anche un po' più fortunati, tra virgolette.